Ci servivano assolutamente per rilassarci, riposarci e per ripartire più forti di prima. Abbiamo giocato contro la prima in classifica, poi in casa loro. Sapevamo che era dura, però noi penso abbiamo fatto una buona partita, anche se alla fine il risultato è stato un po' forse troppo duro. Si può sempre fare meglio, però comunque il mister era nuovo, la rosa era nuova, quindi penso che abbiamo fatto un buon girone d'andata, ma adesso bisogna lavorare per fare ancora meglio il girone di ritorno. Un ottimo inizio, però certo posso fare molto di più e nel girone di ritorno mi metterò a disposizione della squadra per fare ciò che questo accada. Mi ha messo meglio in campo, mi ha spiegato ciò che dovevo fare e soprattutto a livello mentale mi ha aiutato tantissimo. Sappiamo che a gennaio tutti si rinforzano, quindi è normale anche che il Trapani si sia rinforzato. Noi andremo lì e faremo la nostra partita, fuori casa dobbiamo cambiare la rotta perché non abbiamo fatto tante vittorie fuori casa anzi, quindi andremo lì per fare il risultato. Grazie a tutti.